ecco il checco e siamo sul tetto del mondo radura sopra i monti di castro quella è la montagna di canino una volta la montagna di canino dove stanno i monti? bollarone visto? è il spettacolo 1 2 3 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Non è un porcino, dove è il porcino a destra? Quello è un fazio, sulla strada, vedi, è quello lì, li avevo visti tutti, hai visto che cosa, ti ho detto merita il video, il video, merita il video, la bollata di cocchi, due, altri due qua, c'è proprio l'enancione, uno lì, 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 guarda questo, guarda questo, sbottano in mezzo alla terra, coglieli tutti, uno, auli bellissimi, ai monti di castro, eh sì, guarda c'era un altro qua sotto, ho fatto che tanto si è rotto, e 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 bollatissima e bellissima, e e e e e e e e e